Salve a tutti eccoci a una nuova puntata di questa serie su Unravel 2 io e la mia ragazza Linda ok ci siamo tutti i ricordi è passata l'ultima puntata e abbiamo registrato è passato un qualche giorno un po' di tempo quindi vediamo doveva ricordarci non mi dovessi ricordare i comandi scusate per lanciare il filo la cosa è R2 che è questo qua e mi sono dimenticato di togliere la suoneria sono pollo ok a posto ok ok a posto direi possiamo andare no? ok andiamo qua c'è dobbiamo evitare di farci o forse dobbiamo proprio farci sparare direi proprio di no ah lo vedi dobbiamo si si via un po' ho capito no 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 ho capito io fermo ho capito io allora ora salta o salta sul buco? salta buuuu ole ora stai ferma che io ritorno oh vai oh vai si e olè a posto e andiamo questa lucetta che ci porta dove? la so aspetta no aspetta 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 fammi capire ora se non è una cosa blu quella la ah non va bene allora io devo un attimo e non la distinguo? io forse ho capito io eh allora aspetta allora devo aspetta forse ho capito che devo fare eh ti fai il nodo si però facciamo una cosa devi prima tu saltati dall'altro lato salta ok ferma ora io tiro su faccio il nodo qua ok poi no eh il nodo qui oh perfetto adesso dobbiamo saltare addon no ti faccio vedere oh ecco fatto adesso tiriamo su no dobbiamo aspetta ah ho capito eeeh eeeh ooole perfetto l2 e tirati su va intanto sciolto tutte ah no ha mancato l2 tieni premuto l2 e tirati su oh benissimo a posto si andiamo nel scorso aspetta qua c'è no cazzi no mi eeeh eeeh ooole perfetto cioè mia poi l2 e tirati su ormai andiamo 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 così eeeh io salto poi tu l2 e tirati su e tanti saluti va bene ok dai eeeh eeeh nooo ci siamo pochi aspetta nessun problema ah no aspetta no mi son casino allora oh e poi si salta così no bravissima gioia come sempre come sempre ah beh che fatica ah beh poi eeeh qua adesso e qua ecco eeeh poi di qua eeeh qua di nuovo c'è di tesoro l2 tirati su l2 e tirati su bravissima gioia ora qua c'è un piccione viaggiatore aspetta ole perfetto gemi ce la fai bene altrimenti l2 come sotto l2 e tirati su qua c'è un altro piccione che vola eeeh eeeh aspetta aaaah qua qua ho capito io tutto perfetto poi qua lo leggo pure ooooh e allora si ehi se sentite signori ormai lo sai c'è devi saltare tu la non mai non ci pensa più neanche a fare non non ci pensa più neanche a non ci non ci pensa neanche più a superare i livelli c'è devi farlo tu poi perchè sforzarmi vabbè no ok tu devi allora o io ho capito bravissima stavolta 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 sono io ole e andiamo su aaaah e qua di nuovo intanto quella luce indica il percorso in qualche maniera ma ecco intanto devo fare allora si 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 però è allora puf ok ora eeeh gioia non è proprio dove dovevamo allora forse la cava prima ok eeeh si il problema è che ecco salta puff ok devi cercare di fare il nodo all'altro lato perchè mi sa che io da solo non posso farlo cosa facciamo salta r2 per appenderti ah sali su e poi prendi il quadrato quando ci sei lì oh perfetto ora io salo così per tu ora eeeh r2 e sali su r r2 e sali su ok poi da qua saltellino ole a posto ora prendiamo il cerchio e ci riprendiamo i fili attenzione questi sono da saltare questi sono da evitare si va bene ecco sono in teoria da evitare ecco sono da evitare gioia gioia sono da evitare in effetti ora ora calma qua ah ma c'ho c'ho un pilastro in tutto questo eeeh 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 e perché allora devi fare attenzione alla la al tracciato diciamo di quelli che fanno quelli lì allora iiii eeeh io non posso fermarmi no ho sbagliato io stavolta ho sbagliato io stavolta ho sbagliato io stavolta e qua c'è il problema qua non posso fermarmi allora ok no nin 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 yeh yeh ok aia gioia quello poi ritorna tesoro mio va bene mi sembrava che stavolta no non è che se ne va un torna più stavolta stavolta pure qua eeeh 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 ok salta 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 ora no di nuovo bravissima ok scendi e andiamo ce l'abbiamo fatta dai ce l'abbiamo fatta oh e adesso aaaah facile 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 aspetta no no non così ok ok si va bene ok ora aaaah no nooo eeeh che mi sono accorto adesso che c'è quel c'era il robo da allora aspetta che e che tacchete ticchete tacchete ticchete eccole e tacchete ticchete tacchete io me fermo aspetta qua ma come devi appoggiarti all'altro muro tacch salta non così dai gioia l2 tirati su l2 tirati su no fermati quasi lo vedi questo qua la specie del ragnonello c'è da saltare però bisogna fare attenzione ora guarda come faccio io deve essere tipo giù perchè guarda che devi fare che bisogna fare ok si va bene l2 tirati su gioia l2 tirati su l2 tirati su ole ok aia e qua sono quelli da evitare a rinforzare si qua bisogna rinforzare lì però aspetta ferma ferma ah e vedi perchè bisogna perchè poi da lì bisogna saltare allora ok fa attenzione non partire non partire a sprombattuto ma che bruciò e che bruciò quello la io dico non partire a sprombattuto cioè è mia allora ok allora qua no ok ferma dobbiamo un attimo capire come vanno questi ok questo dobbiamo capire ci sono quei due vanno uno sopra uno sopra uno sotto quello che va al centro quindi dobbiamo fare tipo tipo dribbling c'è quello la nel frattempo che fa allora è un po' un casino non è impossibile ma è un po' un casino allora darei il ok eh 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 allora vabbiamo però eh cioè tu devi eh devi barcamenarti in mezzo a queste cose allora eh no Gioia 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 ascoltami mi è venuta un'idea tu stai giù tu stai giù ascoltami stai giù va bene mi trai ecco l'hai capito ora so ora io eh lì 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 forse così e stai giù ok allora il frattempo avanza Gioia perché se no poi mi finisce il filo no nooo ok non voglio capire allora anche se no 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 Gioia no 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 secondo me il modo c'è solo che devo un attimo tu devi giusto seguirmi perché c'è sempre il discorso del filo perché a un certo punto il filo finisce quindi devi cercare di seguirmi no no mi sono rimasto un attimo ok perché se riuscì ah però voglio capire un attimo una cosa dove arrivano se c'è un punto della mappa di cui c'è il punto di questa ringhiera che non è toccato da nessuno no perché se c'è un punto che non è toccato da nessuno si ok va bene allora vediamo se vediamo se riesce la cosa vediamo un po' per rallentare il chi ah ecco lo vedi R per rallentare il tempo si ah per rallentare il tempo si ah ok ok ora sto qua prima voglio capire no ferma 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 un attimo una cosa posso salire si? no e allora perfetto io sono qua in un punto che non c'è nessuno ora mettiti qua tirati su con un poco su con L2 e di provare prova con slancio a salire da sopra vabbè eh bravissima perfetto perfetto ok oh e adesso dobbiamo fare e fe oh e adesso e adesso siamo tutte e due ok ora solo che questo forse è meno complicato gioia attenzione ok oh di qua perfetto aspetta ok di qua ferma ok oh perfetto bene così oh ce l'abbiamo fatta qua dalle dalle allette e l'abbiamo coordinata ok aspetta lì l'abbiamo finita di sì no gioia ecco proprio questo io volevo evitare allora però ferma proviamo no eh no aspetta faccio vedere un attimo la situazione no eh perchè dobbiamo cercare un modo di arrivare a meno che aspetta c'è modo per no non ci scende aspetta aspetta forse ho capito allora eh stai ferma tu ok ecco ok poi qua olè adesso poi no no eh ho sbagliato io stavolta no perchè pensavo pensavo che ok rimettitino qua in in pizzo poi io scendo giù eh ahio olè e annodo qua a tutti che mi occupo di voi eh ci stanno comunque sentendo gioia eh 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 ebbè non ti allora eh la mia ragazza non è non è abituata eh e quindi c'ha c'era no porca mitè no stava per scapparci il momento cazzi nostri comunque vabbè allora vabbè tranquilli non ti preoccupare allora vai torna vai lì scusate ok ora però c'è un problema e le due perchè io mi sa che ho sbagliato no no io 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 ora mi sa che ho sbagliato io sbagliavo io una cosa oh ecco lo vedi lo vedi ecco qual è il modo per tornare su ecco appena ora eh ecco ora io faccio così ed ecco poi mi spara all'altro lato do una cragnata al muro ed ecco di qua e ecco ok adesso si può scendere evitando di farci sparare via io c'è c'è eh calma 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 arriva qua dove sono io che poi lo saltiamo ole bene apposso perfetto così perfetto ok 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 perfetto ora le sleghiamo tutte cose perché se no oh e adesso ok vabbè eh ma non ci pensare più comunque mi va pom pom si si è partita tu io pom 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 ah ok c'è qualcosa che non va si dobbiamo salire si vabbè ho capito dobbiamo salire qua no mmm allora dobbiamo girare un bel pochino di cose aspetta perché forse ma come si fa è perché poi c'è l'ultimo non sai perché? perché l'ultimo in qualche modo dobbiamo girarlo solo che esatto come devi girare qua non quale esatto no questi sono tutti buoni c'è uno solo che bisogna girare aspetta allora devo ok papete e la niente non puceva ah fermati fermati vediamo se c'è magari qualche cosa non ce n'ha più allora ah ah non ho capito ferma ferma ok e ti caduto un po' lo stiamo lì qua ora ma deve essere giurato sale non proprio perchè gira gira di nuovo ah ok gioia salta tu su questo perf però ci devi stare tesoro mio salta significa che ci sei la perchè devi tenerlo ok va bene ah quello lo tengo gioia guarda guarda devi fare quello e questo bene stai lì ora stai lì che pom a peggio del tono è un problema devi stare tu devi stare sempre lì ole ora ole e questo si sposta di qua perfetto ora tu molla si va bene scende puoi scendere puoi scendere questo rigiriamo la ok cominci la giostra vai puiiii wiii 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 e wiii è arrivato ole e adesso risaliamo di qua ole qua cos'è una cazzo no ah qua fanno i bambini i bambini che si stanno nascondendo non si sa la cosa ma si stanno nascondendo che scegliamo di qua ok aspetta qua cazzi cosa sono bambini che stanno guardando stanno leggendo si stanno leggendo assieme una cosa non so se è un libro o boh non lo so comunque mi sa che abbiamo finito il livello sai di già questo livello si di già è il primo e siamo al faro ok ci siamo arrivati al faro direi di si ok vabbè caricamento io direi a questo punto ecco perfetto e qua c'è il primo livello e questo l'abbiamo completato penso che adesso se ne sbloccherà un altro infatti ah no si ecco si è dipinto un quadro ci sarà una simbologia sicuramente un significato appresso tutto quanto e adesso questi qua ti compro compro la storia di qualcosa cosa qua si è sbloccato una cosa e la luce ci porta ah ok ok dobbiamo no dobbiamo scendere qua vieni seguimi 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 allora vai ci deve portare su presumo no gioia aspetta ascoltami facciamo una cosa salta e grappati alla leva ok ora io ah lo vedi? e uno deve fare così ah perfetto e l'ascensore va bene ok ora direi andiamo di qua e ferma 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 perché io direi a questo punto per questa puntata di fermarci qua direi fermarci qua darci appuntamento alla prossima puntata con questa serie su Arraval 2 e la prossima puntata vedremo Bucolico ritrovo capitolo 3 insomma vedremo al prossimo livello prossimo quadro cosa ci riserverà no? si e allora detto questo saluto tutti quanti voi ciao e alla prossima